Ci tenevo a ringraziare il mio amico Billi, che Billi Marcucci può aiutare. I ringraziamenti sono totali dai ragazzi, dai dirigenti, alla tifoseria che anche oggi ci ha portato fino alla fine a credere in quello che abbiamo detto tre mesi fa. E alla fine ci siamo riusciti, quindi grazie, grazie, grazie. Sensazioni irripetibili anche per chi ha vinto qualche campionato, anche da parte dei ragazzi che hanno vinto i campionati, ma la sensazione di oggi è stata unica che ho confessato come fa. La stagione di sofferenza, di passione, di sofferenza. però fortunatamente adesso possiamo dirlo che abbiamo mantenuto la categoria quindi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, mantenere la categoria quest'anno certo prima di me stavamo detto che avremmo fatto un campionato tranquillo cioè di tranquillo ci è stato molto buono però adesso è andata così quest'anno quindi come ho detto alla precedente conferenza la settimana scorsa gli errori sono seguiti insomma per cercare di migliorarci quindi sicuramente saranno dei cambiamenti perché se non cambiamo nulla non riusciremo a dare una stezzata quindi gli errori che sono stati dobbiamo partire da sofferire con gli errori quindi sicuramente saranno dei cambi dirigenziali